Ho appena appena finito di scolarmi perché ovviamente il giorno del diluvio universale doveva arrivare il giorno della mia partenza I miei capelli fanno davvero pena, domani devo fare un lavoro importante, indovinate con chi? E mi meritavo dei capelli decenti, ma c'è il diluvio universale Quindi passiamo alla preparazione della valigia e ai capelli ci penseremo dopo Potrei anche lasciarli così, che dite? Innanzitutto penso che l'outfit della partenza sarà questo, ovvero una bella tuta di Zara che ho preso l'anno scorso Facciamo la transition No raga, scherzavo, non mi convince Little mental breakdown track È normale anche questo Comunque adesso mi lavo la faccia e torno all'opera Ok, sistemato tutto, questo qui è il look finale Solo che tra un quarto d'ora parte il treno e io penso di averlo perso Comunque vi aggiorno sulle storie Vi aspetto su IG